Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, anzi in particolare buongiorno a tutte, perché oggi è la festa della donna, 8 marzo, quindi prima cosa mando un bacio a tutte le donne e facendo gli auguri a tutte, mamma compresa, la Jenny, la mia bimba Kelly, quindi le prime alle quali faccio gli auguri sono le mie donne vicine, quindi la mamma, la mia dolce metà e la mia bimba, detto questo però l'augurio va a tutte voi, attendo che siate collegati o meglio collegate, attendiamo qualche istante che l'algoritmo invii la notifichina, sempre se avrà voglia di inviare la notifica, siamo qua, oggi venerdì 8 marzo, ore 10.03, un minutino, sono iniziato alle 10.02 in verità, due minuti di ritardo, non riesco mai a essere puntuale, premetto questa cosa, allora oggi diverse notizie interessanti, in verità l'argomento, le prime pagine sono dedicate quasi tutte a questo gioco delle spie, questo gioco delle spie che ovviamente secondo le indiscrezioni dei quotidiani sta coinvolgendo in particolare i politici di centro-destra, quindi centro-destra spiato da quella parte politica e da quella giustizia ovviamente che è tutto tranne che di destra, quindi parliamo di politici e spioni di sinistra, di centro-sinistra. Attendo voi qualche istante, attendiamo, non vedo ancora collegati, ok no vedo i primi, ciao Lucilla, buongiorno e auguri Lucilla, ciao Daniele Brini, buongiorno caro, ciao Luigi, intanto vedo due uomini, Carlo Clemente che mi dice a Castellaneta 14 gradi con vento di maestrale, parliamo della provincia di Taranto, quindi ciao Carlo, l'amico Carlo Clemente, abbiamo Michele, buongiorno Michele, Amoruso collegato, Rosanna De Pera, buongiorno Rosanna e tanti tanti auguri per la festa della donna, Salvatore Guzzetta, buongiorno a te, Carlo Botta, ciao, vedo i primi collegati, eccoci qua. Allora, tendiamo a vi chiedere di condividere, dare una mano perché sono ormai tre giorni che sono completamente shadow bannato, fanno di tutto per non far arrivare le notifiche e per di fatto bloccare le mie dirette, è una cosa palese, dopo che ho attaccato, risposto a tono ai fact checker, ovviamente la risposta è questa, ma adesso metterò il legale per andare ad appurare il perché di questi ban che sono veramente vergognosi, odio la censura e quindi risponderò chiedendo un bel accesso ai dati per andare a vedere chi è il colpevole di questo shadow ban che ovviamente non è, Zuckerberg non ne sarà al corrente, il meta non ne sarà al corrente che in Italia fanno questi giochini qua, quindi come ho fatto il paiolo ad altri fact checker farò il paiolo anche a quello che in questo momento sta shadow bannando le nostre dirette, perché non esiste che limitiate la libertà di informazione delle persone e la libertà di parola, quindi appureremo chi è e vedremo come fare per mangiargli la casa, questo furbo che continua a premere un pulsante dicendo nascondiamo le notizie di Robi Giusti, come di Robi Giusti anche di altri, so che il problema ce l'ha anche Sandro Torella a volte, il problema ce l'ha anche l'amica Pabble, l'imbannabile, che è imbannabile ma viene bannata, quindi noi andremo avanti con la nostra battaglia di informazione e risponderemo di caso, ciao Valletta buongiorno, allora andiamo a sodo, andiamo a vedere le notizie, però prima delle notizie amici dobbiamo far partire la sigla ufficiale, vai tutte le mattine, ore 10, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e partiamo con le prime pagine di giornale, abbiamo Libero, Libero che appunto mi ha dato il titolo alla diretta di oggi, il titolo principale, ovvero centrodestra spiato, un dossier trappola contro ovviamente chi? Contro la Lega, pensate in questo dossier banche dati violate per incastrare il carroccio, la procura di Perugia indaga sui mandanti e cantone, si parla di numeri mostruosi, pensate scaricati 33 mila file illegali, la Meloni andremo fino in fondo e amici è una cosa veramente qua oltre alla censura c'è anche veramente una vergognosa azione di spionaggio dove spiano illegalmente, qua c'è una violazione della privacy, violazione del diritto di poter esercitare la professione anche quella politica, è veramente una cosa vergognosa e sta venendo fuori tutto, quindi vedremo secondo me qualcuno, amici, qualcuno, amiche finirà in galera presto e sono molto curioso di vedere chi, vedere le facce degli artefici di questa porcata mega galattica, ne parlano i quotidiani, quindi Salvini, attenzione se spi, Salvini rischia di beccare Salvini che sta facendo uno sprizza, quindi è un casino, per chi minimizza si mette male, Daniele Capezzone tratta questo argomento con un articolo molto molto interessante a pagina 12, quindi vi invito a chi avesse la possibilità di leggere libero anche online di leggere questo articolo di Capezzone molto molto interessante. Al centro pagina abbiamo Ops Davigo condannato in appello, solo la Cassazione separa il manettaro dalla figuraccia. Poi al centro pagina sempre vergogna femminista, guardate questo articolo è molto interessante, piccolino ma interessante, donne israeliani escluse dal corteo dell'8 marzo, vergogna femminista, sarà un corteo antisemita quello che oggi sfilerà per la festa della donna, quello per intenderci organizzato in più piazze d'Italia che porta la firma del NUDM, la sigla che sta per non una di meno, il movimento femminista e transfemminista che come si legge sul sito il transfeminismo, non so che cosa sia, sinceramente siamo veramente la vergogna satanica peggiore, dal 2016 si batte contro ogni forma di violenza di genere. Attenzione perché tu mi vai a fare una manifestazione contro la violenza, 8 marzo, lecitissima, e poi io mi trovo le israeliane escluse. Quindi ditemi voi, una cosa che dovrebbe essere veramente contro la violenza, una cosa che non dovrebbe, una cosa che è contro la violenza e contro gli abusi nei confronti delle donne che parte dicendo voi donne israeliane però non partecipate. Solo i pidini, perché qua c'è tutta gente pidina, possono pensare a queste cose. Vorrei nei commenti, vorrei nei commenti a straccia la notizia, stracciamo questa cosa. Ditemi voi se è normale fare una manifestazione in tutta Italia, questa associazione nazionale, questo movimento, va a fare una manifestazione a favore delle donne, contro la violenza nelle donne e me la va a fare escludendo le donne israeliane dal corteo. Ma vi sembra, siamo alla follia Daniele Brini, concordo, vi sembra una cosa normale? Vorrei i vostri commenti e la vostra condivisione perché è un tema veramente che mi fa inascarire, una cosa dove non trovo una vera motivazione. Tornando alle pagine, quindi questa notizia, donne israeliane escluse dal corteo dell'8 marzo, questa è la vergogna femminista. Poi abbiamo caccia dalle corsie a Popoli in Abruzzo, la Ghislaine usa gli ospedali per fare comizi elettorali. Pensate, Ellie Ghislaine è Croce Rossina ad Abruzzo, io invece ce l'ho, Ellie Ghislaine ce l'ho, voi non l'avete visto, forse non me ne siete resi conto, ma la sigla, ve la faccio vedere, ha Ellie Ghislaine e la Meloni come ballerina, guardate, sono loro, sono Ellie Ghislaine, eccola, e l'altra velina di Straccia la Notizia, chi è? Guardate, guardate, se non un po' di meno che, Giorgia Meloni, l'avete viste? Sono loro, amici, sono loro, sono loro, le mie veline preferite. Poi adesso cambiamo pagina, andiamo, vabbè, sotto abbiamo Ferrari Joker, l'influencer furiosa per la copertina dell'Espresso, Ferragni Joker, arriva la querela, mamma mia, qua tutti che querelano, tutti, ditemi voi, la Ferragni che querela, perché, non va bene, ragazzi, una pagina di giornale, vabbè, stendiamo un velo pietoso per queste cose, che querelano, perdo un tempo per questo. La stampa, dedica la prima pagina, la stampa a tutte insieme, non è vero, non è vero, tutte insieme perché le israeliane, qua hanno messo anche una ragazza israeliana, sono escluse dal corteo, tutte insieme sarebbe giusto così, sarebbe veramente giusto così, però la verità e la vergogna pura è che le ragazze israeliane sono state escluse dal corteo femministe in Italia, quindi, razzismo, pensate, razzismo nel corteo femminista, sono riuscite, le sinistrine sono riuscite a distruggere anche una cosa importante come la festa della donna, andando a escludere un popolo veramente vergognoso, forse loro mi vergognerai profondamente. Poi la Repubblica, voto in Abruzzo, sfida sulla sanità, nel feudo di Fratelli d'Italia, la gestione disastrosa degli ospedali pubblici al centro dello scontro, la Ghislaine chiude la campagna del PD insieme a Bonaccini, siamo uniti, si può vincere, dossieraggi, spunto file sui fondi della Lega. Intanto ho fatto arrabbiare Bonaccini, non lo dirà mai pubblicamente, ma quando gli agricoltori sono andati da Bonaccini la settimana scorsa, che c'era Bruno, il mio amico Bruno in diretta col telefonino, Bonaccini ha mandato via Bruno, ha detto oh, sono in sostanza fatto capire, ci metto un attimo a correlare tutti. Quindi, buona Stefano, non ti arrabbiare, ti abbiamo mandato gli agricoltori per fare due chiacchiere, avevano il camion di letame con loro, ma non devi arrabbiarti, caro Stefano Bonaccini. Vabbè, andiamo avanti con il voto in Abruzzo, abbiamo una sfida vera e proprio sulla sanità. Gaza, la mossa di Biden, un porto temporaneo per gli aiuti. C'è una mossa, Israele, il dilemma casa e fortezza. Intanto c'è veramente una divisione importante a livello politico, a livello internazionale, di politica estra, tra Israele e gli Stati Uniti. C'è un po' di attrito in questo momento tra Israele e gli Stati Uniti. Intanto l'operazione simpatia di Putin, guardate, ora arruola lo street haste Jorrit, quindi Ciro Cerulla a sinistra in arte Jorrit con Vladimir Putin. Quindi Putin gioca le sue mosse mediatiche. Abbiamo il Corriere della Sera che dice spiati, numeri mostruosi. Il procurtore di Perugia ha sentito all'antimafia, cantone anche un dossier sui fondi della Lega, l'Ira di Salvini, fuori i mandanti. Attenzione, questa volta qua ce ne veramente verrà fuori un casino incredibile. Intanto vorrei ringraziare i fact checker per questo ban continuo nei nostri confronti e ho già messo l'avvocato in mezzo, sto per scrivere a Meta tramite i miei legali, ai legali di Meta, perché faremo un accesso ai dati per chiedere qua lo dico, cari fact checker. Guardatemi negli occhi, hai una casa intestata fact checker? Preparati, perché stiamo preparando un accesso ai dati per chiedere chi è che banna, chi è che shadow banna, chi è che nasconde le dirette delle persone come me che sono non contro il sistema, che però mettono con straccia la notizia e tanti altri format in discussione tutta la narrazione del mainstream. Quindi attenzione, ti ricordo che in Italia c'è un diritto fondamentale di poter parlare ed esprimere un parere. Sempre deve essere lecito, deve essere nonne, offensivo, ma il diritto ce l'abbiamo. Tu che mi nascondi capirò cosa poterti mangiare coi miei legali e questo lo farò perché io non mi fermo davanti a questi pagliacci che nascondono le persone in modo vergognoso e purtroppo la gente, amici, se ne accorge, se ne accorge, c'è la gente che mi scrive in privato, Robby non riusciamo più a vedere le tue dirette. In tanti me lo scrivono, non arriva più la notifica. Quindi io andrò avanti perché questi qua non mi spaventano, per me sono dei bamboccini, quindi non mi spaventano nessuno, né uno né l'altro. Intanto vi ricordo per quelli collegati di seguire la pagina, seguire la pagina. Torniamo alle notizie, torniamo ai quotidiani, quindi numeri mostruosi, il Corriere della Sera parla di numeri mostruosi. Abbiamo Zelensky, c'è anche Zelensky ogni tanto sulla RAI, il leader contro i filorussi Zelensky, se Putin attacca la Nato, l'Italia è coinvolta. Vi siete resi conto che Zelensky ci sta portando in guerra? Noi italiani direttamente dovremmo mandare i nostri ragazzi a combattere perché Zelensky ci sta obbligando a farlo. Rendetevi conto a chi stiamo andando dietro, è una cosa vergognosa. Andiamo da altre pagine, andiamo a vedere cosa dice il giornale, il giornale parte in alto il rapporto shock sulla strage di Hamas, uno per uno ecco tutti gli orrori commessi sulle donne israeliane, mentre le femministe festeggiano l'8 marzo con bandiera palestinese, quindi attenzione, e hanno escluso e hanno escluso le donne israeliane. Attenzione, a me non va bene, non mi andrebbe bene neanche il contrario, neanche se fossero escluse dal corteo delle donne palestinesi, cioè non esiste, tu fai un corteo in difesa delle donne, le donne devono esserci tutte, a prescindere dall'etnia, dalla religione, dalla nazionalità e da guerra o non guerra, è un corteo contro la violenza nei confronti delle donne. Attenzione, voi uomini che fate delle guerre fate violenza nei confronti delle donne, quindi questo dovrebbe essere un messaggio molto chiaro, la pace non ha bandiera, la pace è la pace e contro la violenza dobbiamo essere tutti, a prescindere dalle idee politiche o religiose. È veramente vergognoso quello che stanno facendo. Andando a vedere al centro pagina il caso domani, il quotidiano di De Benedetti, si fa riscrivere gli articoli dai pubblici ministeri, dai PM, le inchieste partivano subito dopo la pubblicazione, guardate, e poi c'è l'allarme di Cantone, un verminario spiati, 33.528 file, eredità Danielli indagati, Lapo e Ginevra, Elkan. Insomma, una cosa veramente, veramente triste quello che sta succedendo e sono in Italia queste cose qua, a questi livelli comunque, con tutto rispetto. Abbiamo il Fatto Quotidiano invece, che cambia completamente il argomento perché parla dei conflitti di interesse di Boschi e Salva Renzi. I conflitti di interesse di Boschi che Salva Renzi. Pappa e Ciccia sono l'emendamento alla legge e Conte per il suo capo. Guardate che dolci che sono, Conte restano in contratti già firmati e che si è occupato di Covid e mafia e fuori dalle commissioni. Quindi pensate, pensate, ma intanto la commissione si sa già come andrà a finire, ormai l'abbiamo capito bene, commissione fuffa di inchiesta. Abbiamo visto il Fatto Quotidiano, la verità, la morsa dei cronisti, la morsa PM barra cronisti, soffoca l'Italia, intreccio tra magistrati e giornalisti di sinistra dura da oltre 30 anni. Quindi i 30 anni, e attenzione, i fact checker sono tutti di sinistra, ve lo dico perché stiamo facendo questa indagine clamorosa, ho fatto un articolo molto interessante su Paragone.it che ne parla, ci sono dei conflitti di interessi enormi anche nei fact checker, che pensate, tipo Facta, ha scritto un libro, ha scritto un libro, il direttore di Facta, che di fatto attacca e parla delle bugie della Meloni, permettendo che qualche bugia la Meloni l'ha detta, questo lo sappiamo, è palese a tutti, ciò non toglie che però tu sei un fact checker e vai a fare un libro contro le bugie della Meloni, del centrodestra, attaccando pesantemente il centrodestra, ed essendo soprattutto questi facta tutti rappresentanti di movimenti e blog assolutamente di sinistra, assolutamente di centrosinistra, piddini contro il governo di centrodestra, quindi come è possibile, come è possibile, qua vi pongo una domanda e vorrei una vostra risposta, come è possibile che in Italia ci siano dei fact checker, da Mentana, da quello di Open, a quello di Facta, a Butta, che sono tutti fact checker con gente di centrosinistra, non di centrodestra, quando in verità non andrebbe bene neanche di centrodestra, io non sto dicendo che devono essere, dovrebbero essere sopra le parti, non essere schierati politicamente, invece tutta gente palesemente schierata, poi dopo se uno dice il contrario è un grande bugiardo, anche se potrebbero dire il contrario perché sono fact checker falsi di parte, quindi loro raccontano, hanno una razione tutta loro, raccontano quello che gli pare, però la verità è quella, non è giusto che chi controlla le notizie e la veridicità delle notizie sia schierato da una parte o dall'altra, perché se no non può essere sopra le parti, questo lo dico, vale anche per me, io non potrei mai fare il fact checker, non potrei mai farlo perché non sarei sopra le parti, però l'onestà intellettuale dice che uno dovrebbe dire quello che pensa in modo onesto, quindi dire la verità, cosa che loro non fanno sicuramente, anche perché ci stanno bannando 350.000 persone che seguono la pagina, quasi 124 spettatori, fa capire quanto sono, non si dice cosa, potrei usare 30 parolacce, ma ho promesso alla mamma di Bruno di non dire più parolacce, quindi devo dire nemmeno possibile. Torniamo alle pagine, quindi questa qua, la morsa dei PM sulla verità che soffoca l'Italia, dei PM cronisti, abbiamo il cancelliere infedele perquisito dalle toghe con cui chattava da anni, gli stretti rapporti dell'amicizia di Guadagno con i due magistrati incaricati, comunque sempre in mezzo a questi magistrati, magistratura di sinistra, una cosa veramente tremenda, tremenda che fa perdere completamente la fiducia anche nei media, nell'informazione. Inchiesta spioni dai dossier striano al video hot fino a colpire Matteo Renzi, c'è il filo rosso dietro, bomba cantone 33.000 spiati. Allora guardate, io con tutto rispetto spero che mandino in galera questi pezzi di non si dice di cosa, perché ho promesso la mamma di Bruno di non dire parolacce. Poi Ursula, Ursula e Giorgia, direte ma chi è Bruno? Bruno è il ragazzo degli agricoltori italiani, oggi pomeriggio ho uno scoop incredibile degli agricoltori italiani, perché faremo una diretta con gli agricoltori in esclusiva oggi pomeriggio, preparatevi con gli agricoltori italiani che hanno finalmente fatto una cosa enorme in tutta Italia e quindi faremo una diretta con loro e appunto uno di questi è Bruno, Bruno che è un caro amico, è diventato un caro amico, mi fa da inviato ed è anche il figlio della mitica mamma di Bruno, quindi preparatevi oggi pomeriggio per questa grande notizia. Abbiamo Ursula, patto Ursula e Giorgia, passa per i migranti, abbiamo questa vignetta qua nel tempo di Osho che fa vedere questi due signore sorridenti, di la verità, tu pensavi che avremmo litigato su tutto? Beh dai, un po' sul cazzo all'inizio testavo, adesso sono diventate amiche per la pelle, sono diventate amiche per la pelle, anche se ieri sera la Meloni ha dritto e rovescio, ha detto alto, ha detto che si sta facendo rispettare in modo importante in Europa. Abbiamo l'unità, andiamo, facciamo un salto all'unità, vedere l'unità, il giornalismo si fa da parte, avanti spioni e mestatori, ovviamente qua parliamo di un, non di mestatori e spioni di sinistra come l'unità è di sinistra, ma di centro e sinistra, parliamo sempre legati ai piddini, poi c'è il sadismo di stato, si parla della Sea Watch spedita a Ravenna con un cadavere a bordo, veramente un sadismo di stato in questo caso, cose che non si dovrebbero vedere. Ursula e Giorgia, nemiche delle donne, pensate, l'8 marzo parla Ida Dominignani, vabbè è da andare a leggere, Graziella Balestrelli che tratta questo argomento, sicuramente interessante e sarò curioso di andare a leggerlo, finita la diretta andrò a leggere questo articolo integrale per capire perché Ursula e Giorgia dovrebbero essere nemiche delle donne. E basta, direi che siamo arrivati, bene o male abbiamo visto le notizie principali, si gira attorno a due notizie, la notizia però principale del giorno è proprio di questi spioni, spioni che si sa, si sa che spiano però casualmente sempre solo gente di centrodestra, in particolare gente tipo Salvini, quindi quelli del Carroccio, poi direte, c'è chi dirà, fanno bene a spiare? No, io non sono d'accordo, per me non va a spiare nessuno, né da una parte né dall'altra, perché non deve mai, non si deve mai cadere nella violazione del diritto alla privacy, quindi veramente una cosa triste. Andiamo con la sigla finale, vi saluto, buona giornata a tutti, vi chiederei di condividere, chi non ha ancora fatto di seguire la pagina, anche se i fact checker fanno di tutto per non farmi vedere, mai, fanno di tutto per non farmi vedere perché devi nascondere robi giusti, cazzo, dice la verità, scusa, non volevo dire razzo, non volevo dire razzo, e quindi attenzione, fanno di tutto per nascondere chi dice la verità, ovviamente, ovviamente, perché quando tu dici la verità e non è smentibile devi lasciarla online, hanno provato a bloccarmi il video di qualche giorno fa, mi sono arrabbiato pesantemente, ho scritto subito coi legali, e chissà perché è stato sbloccato i miracoli dei giorni nostri. Ciao a tutti, sigla finale, buona giornata, vi voglio bene, un augurio a tutte le donne, mimosa per tutte, mimosa per tutte, e andate a vedere il sito sempreconme.com, sempreconme.com, ciao a tutti. Ciao a tutti.